Presentata ufficialmente a San Vincenzo, la rassegna è stata in musica 2021 da parte dell'Associazione Culturale e Musicale Città di San Vincenzo. La presentazione è avvenuta sabato scorso nella Sala Consigliare della Torre. Cinque eventi che costelleranno questa estate e che avranno diverse location, dall'Anfiteatro del Porto alla Piazza Don Ivan Martelli fino alla chiesa di San Vincenzo Ferreri. Il primo concerto sarà il 26 giugno con classiche in concerto, corale e orchestra dal vivo in Piazza Don Ivan Martelli. Proseguiamo con coro in festival, la prima medizione con coro ospite, corale Valdera di Peccioli all'interno dell'Anfiteatro del Porto il 10 luglio. Il 23 luglio opera in concerto con i nostri due solisti soprano e tenore, la corale Città di San Vincenzo e accompagnamento al pianoforte, sempre in Piazza Don Ivan Martelli. Per agosto seconda data di Corin Festival con ospiti New Choir e Tornado Band di Livorno, sempre nell'Anfiteatro del Porto alle ore 21.30. Concludiamo la stagione estiva con l'assunzione di Maria con il due in dulcis all'interno della chiesa centrale per poi concludere con lo stand promo il 21 di agosto.